Secondo alcuni siti web, tra cui wikipedia.org, Fedetz, seudonimo di Federico Leonardo Lucia, è un rapper, personaggio televisivo e imprenditore italiano. Quando il conduttore ricorda le parole di Gianluca Vialliche, raccontando la sua malattia, disse che lo aveva fatto diventare una persona migliore, Fedetz si è emozionato, ricordando la lunga telefonata che ebbe con lui prima dell'intervento. Io purtroppo non sono ancora migliorato come persona, ma ci sto lavorando. Quando ho scoperto di avere il tumore al pancreas ho avuto la fortuna di sentirlo. In quel momento in cui lui stesso stava vivendo la malattia, è riuscito a trovare del tempo per stare al telefono con una persona che non conosceva minimamente e questo la dice lunga si chi fosse Gianluca umanamente. Grazie a tutti.